Derubato della bici elettrica mentre effettuava le consegne a domicilio a Como, un rider ha inseguito il ladro, lo ha bloccato e lo ha fatto arrestare dalla polizia. Nel tentativo di fuggire, il malvivente ha anche picchiato il proprietario della bicicletta. Attorno alle 22 di ieri sera, il rider, mentre ritirava in un ristorante di Via Lecco gli alimenti che avrebbe poi dovuto consegnare ai clienti, si è accorto che uno sconosciuto era salito sulla sua bicicletta elettrica, lasciata all'esterno e si stava allontanando. Il fattorino ha inseguito il malvivente e intanto ha chiamato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa della questura ha inviato gli agenti delle volanti. Il rider ha raggiunto il ladro in piazza del popolo e lo ha bloccato. Il malvivente ha reagito, è nata una colluttazione e il giovane derubato è stato colpito violentemente al volto. Il ladro ha poi abbandonato la bici e ha provato a scappare a piedi, ancora inseguito dal proprietario del mezzo. In piazza Duomo il rider ha bloccato nuovamente il ladro. Sono arrivati gli agenti delle volanti della questura di Como e i militari dell'esercito impegnati nell'operazione strade sicure. Il presunto ladro, un 35 anni italiano senza fissa di mora, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina. Sarà processato domani con rito direttissimo.